Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube Oggi dopo 3 giorni intensi di spacchettamento su twitch Vi porto il recap dei 170.000 fifa points che ho aperto Che mi hanno permesso di tirare su una bella squadretta Che però non vi spoilererò in questo video Perché arriveranno video dedicati su squadra, tattiche, istruzioni ecc Tutte cose che possono soddisfare la vostra curiosità Penso che questa sarà una settimana abbastanza densa Cercherò di caricare quasi un video al giorno In maniera tale da coprire un po' i buchi E quindi niente io vi lascio alle clip Estratte dalle live Dello spacchettamento E spero che vi possiate divertire Un salutone raga In una versione Uuuu Rodrighiello In una versione più cheap della squadra che avevo pensato di fare C'ho un piazzato C'ho piazzato lui C'ho piazzato marziale Come la legge Quanto costa questo? Ah 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 Manca solo lo spazzolone del cesso Manca Manca Visin Lo spazzolone del cesso E la cam dell'Xbox Praticamente Manca pure Padre Pio Vabbè Padre Pio lascia perdere Pace all'anima su Uno che chieda se marziale è meglio di Ansu fatti Ansu fatti Ansu fatti Anche poi se scolate mica me le sto ricordando Sul cretino L'abbiamo dimostrato in IRL C'è 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 Ma Lo so Eh sì sì Abbiamo visto il covid all'Atalanta Detto io Devono fermare il campionato Devono fermare il campionato San Maximo San Maximo Giusto così Giusto così Sessanta pipì Mia vita dentro a una fiera A perdermi l'inizio di FIFA Cioè guarda veramente Stavo buttando la mia vita Sì a non fare niente E buttato dentro a Romics Guarda che triggeramento Se ci penso Cioè mi sono perso la parte migliore di FIFA Io l'anno scorso Turner Sì Stava sotto uno sfigato Della Libertadores Sì Codo Finalmente Una sculata degna di nota Quanto costa Codo Si FIFA poi VAMONOS Star party Clostermann Codo E' ancora estinto vero Clostermann Sì Nà Sì nà VAMONOS VAMO Uh Finalmente Ah godo Gnabry 35 Dai Gnabry E' pulito Dopo un bel po' che non trovavo nulla Erano esattamente 10.000 FIFA points Che non trovavo niente Dai Gnabry Lo accetto in tranquillità Eh però ti dove al Fenerba Cioè Ah Uh Zizek Cazzo Buono Zizek Pure ci può Piacere How much My friend Zizek Penso sui 30k Pure lui Not bad At all Not bad At all No le avanzate Le devo ancora fare Raga Le devo ancora fare Ne ho fatte solo alcune Le devo finire Tipo quelle con la fedeltà E Eccetera Le devo fare Fenerba ci va a vendere i giocatori Sarei impazziti Di balito Finalmente Finalmente Di balito Quanto costa di bala amico mio Dai io lo stavo pensando Guarda mi serve un boost Per arrivare rapidamente Eccolo qua Di balito Quanto costa 120 Pulito Zazzone If Ansufati Ancora lui Pulito Ansufati Dai il secondo Ansufati Ci può stare Vabbè Quanto Fosse dietro di me Ciao Giovanni Grazie per il follow Benvenuto E costa 10 milioni Lo so bene Sissoco in DD Eh Sissoco pure La volevo provare Se no mi piace Poco Uuuuh E se me lo stia dicendo così Così me lo stai dicendo Che un 84 Stai 103 mila Va bene mate Dammeli Dammi i miei mille credit Bello Franky Ma guarda che bello Che sei Sei proprio Bello Come il sole Sei Sei bello Come il sole Franky Sei proprio Bello Dan pazzì 80 pippi Via Negli ultimi 10 anni Penso Veramente da spalletti A conte Gnabri Buono Dai Gnabri Sono sempre Melons discreti Quanto sta Gnabri Quasi 30 Una roba del genere No forse 35 stava 37 Ti dico Bene 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 Ma cosa è il genere Continuiamo a spacchettare If Ah Finalmente Un if Buono Lo zano Quanto costo Lo zano 70k Vai Ci posso stare Perché è una macchina Di gialli Però È il classico Medianaccio Lercio San Maximo Dupont Dupont Ottimo San Maximo Dupont Dupont Alessio Stavanti Arriva Alfonsino Davis Alfonsino Davis Che sta 50.000 Mi pare Alfonsino Davis La chiude lui La chiude Alfonsino Dovremmo aver risolto Tutti i nostri problemi Eh mi pare 50.000 Ciao Federico Grazie per il follo 61.000 61.000 59.000 49.000 59.000